Al via dal 1 luglio le immatricolazioni e le iscrizioni all'Università degli Studi del Molise, il primo obiettivo nei piani del Rettore Luca Brunese è mantenere il trend di crescita dello scorso anno. Dopo il grande successo dello scorso anno, legato ai 7 nuovi corsi di laurea, che ha portato naturalmente oltre il 10% di aumento delle immatricolazioni, la scommessa di quest'anno è innanzitutto mantenere questo livello. Noi siamo convinti che il successo che i corsi hanno avuto è la nostra migliore garanzia di tenerci su quel livello di iscritti naturalmente e quindi di aumentare ulteriormente. Nell'offerta formativa abbiamo un nuovo corso di laurea che è la magistrale di fisioterapia, io lo dico nel modo più semplice possibile, che completa la filiera del corso triennale magistrale come abbiamo già in altri corsi di laurea delle professioni sanitarie. È un corso che sicuramente avrà successo, fa parte di quelli a numero programmato, di quelli che diciamo in questi anni hanno avuto nella nostra università ottimi risultati. 41 corsi, di cui 19 triennali, 1 in doppio titolo internazionale con l'Albania, 19 magistrali, 2 in doppio titolo con Svizzera e Argentina, 3 magistrali a ciclo unico. Il vantaggio principale di Unimol però sta nell'investimento sugli studenti. Quest'anno la scommessa è il grande rafforzamento del rapporto con la comunità degli studenti, quindi tante cose nuove, rafforzare il rapporto, in particolare avremo una nuova area break con punto ristoro in un posto anche particolarmente visibile all'interno dell'Ateneo, che è il segno dell'importanza che noi vogliamo dare a questa richiesta degli studenti e poi sarà rinnovata completamente la biblioteca, ci saranno tanti servizi nuovi per aumentare la fruibilità anche in termini orari, visto che gli studenti naturalmente ce lo chiedono. Se l'antipasso è stato l'incontro che abbiamo fatto con la nostra comunità, i docenti, il personale tecnico e amministrativo per le partite dell'europeo, diciamo ci aspettiamo grandi risultati quest'anno.